Buonasera a tutti, è un piacere esservi perché quest'anno questa iniziativa si inserisce nell'evento Torino Spiritualità che quest'anno è dedicata agli animali, è tutta declinata agli animali e visto che il mondo della chemovat in genere, il mondo che noi viviamo maggiormente è reputa che siamo tutti figli di madre terra, gli animali sono figli di madre terra esattamente come noi, oltretutto noi collaboriamo con SSGAR che è un'associazione animalista e antispecista quindi diciamo che questo evento che si inserisce in questa manifestazione è quanto mai opportuno è quanto mai in linea con quello che noi facciamo Grazie a tutti! Fertorità è un termine che potrebbe indicare che solo gli uomini o comunque solo l'essere umano possa aspirare a una via spirituale. In realtà secondo me il servo più e molto va è, non è così, secondo il mondo della Chinovata non è così. Spiritualità vuol dire un'elevazione a un piano superiore, senza dogmi, senza profeti, senza, diciamo, interferenze che possano mettersi di mezzo tra noi e il nostro rapporto con l'esistenza. E questa è una prelogativa che non può essere solo dell'uomo, ma di tutti gli esseri viventi. Il mondo è una disciplina antichissima che deriva dai nostri territori. Noi a volte pensiamo che per trovare la spiritualità bisogna andare dall'altra parte del mondo. In realtà non è così, perché nei nostri territori, parlo dei territori europei, c'è una enorme fonte di spiritualità, che è il druidismo. L'antico druidismo parla proprio di spiritualità ed è una filosofia antichissima che ha determinato le radici europee, le nostre radici. La chemo mad è stata un'antica filosofia che è stata portata fino ai giorni nostri e che in pratica è una meditazione dinamica, cioè una meditazione in movimento. In realtà poi si avvale anche le tecniche statiche. E questa disciplina è stata portata qui, nei nostri territori, da Giancarlo Barbadoro, che ha fondato la scuola di Chimovato Sole Nero. Giancarlo Barbadoro l'ha appresa in Bretagna, nella foresta di Brossigliano, dove esistono ancora queste antiche culture non miomeci, non moderne, sono antiche e si tramandano nel tempo, ma in maniera, diciamo, discreta, proprio perché gli eventi storici li hanno fatti rendere discretti. in un momento buio come questo che stanno vivendo, perché di certo non sono in un momento nella loro storia molto fortunato, sembra che riescano ad arrivare a una pace interiore con molta facilità, non perché siano meno dotati di un fatto di intelligenza, ma forse anche perché il gradino in più l'hanno fatto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.